Una ventina di gruppi folcloristici, bande da tutta la provincia e oltre 300 figuranti sono per il gruppo che rappresenta Varso. Sono alcuni numeri della grande sfilata che domenica 13 ottobre, partenza ore 10, attraverserà Varso per la seconda edizione di Tradizioni in Sagra. La festa d'autunno che coniuga folclore, tipicità, sapori. La sfilata culminerà davanti alla chiesa dove alle 11 e 15 si terrà la funzione... ...fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki.